Federica e Stefano, il cerchio si stringe, evidentemente caro Stefano, cara Federica, il pubblico da casa ha deciso di dividere questa coppia, non piacete perché altrimenti non sarebbero arrivati a questa votazione, come mai non piacete al pubblico Federica? Non lo so, forse loro speravano in me un'altra scelta, un altro comportamento, però... Cioè si aspettavano che scegliessi Alfonso? Eh, forse a questo punto sì, però io so che ad oggi sono felice, quindi va bene così Stefano, perché non piacete? Non ho idea, forse magari perché volevano più una storia d'amore che tornasse indietro ad Alfonso Grazie a tutti!